Su De Geri amici sportivi e bentornati a Chiedi al Bardo, l'unica video rubrica che risponde alle vostre domande sul wrestling. Oggi mi chiedete, sarà mai possibile vedere gli speciali di NXT su Sky Sport? Beh, la domanda è un po' critica, la risposta è abbastanza severa, perché al momento non c'è nessuno spiraglio all'orizzonte. Innanzitutto perché gli speciali di NXT, ovvero i takeover, sono un'esclusiva del WWE Network che che io sappia, non c'è nazione al mondo che li fa vedere in tv. WWE è molto gelosa di questi contenuti esclusivi della sua piattaforma a pagamento e quindi tende a non volerli diffondere attraverso altri mezzi. In più, se proprio dobbiamo dire la verità e mi addolora fare questa confessione, oggi come oggi lo share di NXT su Sky Sport è davvero irrilevante. Ci sono settimane che NXT viene visto da un ventesimo delle persone che guardano Raw o SmackDown, quindi facciamo davvero poco, poco, poco. Ma riprova che, come purtroppo spesso mi trovo a dire, chi vuole il wrestling tecnico, chi cerca di spingere per un wrestling più combattuto e meno cacciarone, poi i programmi che ti offrono questa cosa in tv non li sostiene, non li guarda e non apre spiragli maggiori per il proliferare appunto di show di questo genere. Anche quello dei pesi leggeri, 205, che insomma è nastre di partenza, al momento non arriverà su Sky Sport, non so nemmeno se WWE lo metterà sul mercato come sta facendo per gli NXT TakeOver, ma insomma se il buongiorno si vede dal mattino, se bisogna fare comparazioni tra programmi televisivi simili, questo 205 è molto simile ad NXT e è un po' fuori dal nostro radar al momento. Io vi invito a fare un po' di promozione per NXT, innanzitutto è un programma dove il wrestling, un wrestling solido, fa la parte del leone. Seconda istanza il commento è anche per lo più molto tecnico e con pochissime divagazioni. È vero, ho un altro partner che è Andres Diamond, che è più portato a questo, visto che lui combatte, ma è proprio una scelta, vi facciamo sentire le musiche il più possibile, cerchiamo di fare meno commenti sui cartelli, cerchiamo insomma di creare quell'atmosfera da evento diversa rispetto ad un Raw, ad uno SmackDown che devi continuamente riempire e quando le cose si fanno un po' noiose perché sono più lunghi, ci metti un po' di carisma personale e fai anche intrattenimento. Quindi ecco se volete sperare che arrivino altri programmi, posta ovviamente l'iniziale premessa che non è detto che siano disponibili sul mercato, beh NXT lo dovete sostenere. Al momento diciamo che è una fortuna che sia già nel bouquet sky perché, ripeto, malgrado il grosso impegno che noi ci mettiamo per proporvelo in maniera diversa dagli altri programmi, pare proprio che se il programma stesso non è di intrattenimento ma è più wrestling oriented, venga un po' messo nell'angolino. Quindi ecco, credo di aver dato una risposta abbastanza concreta e anche motivata sul come mai non ci sono gli speciali takeover e sul perché probabilmente la situazione non dovrebbe vedere uno smottamento nei prossimi mesi. Chiaro se NXT facesse gli stessi ascolti di Raw di SmackDown magari Skype potrebbe dire al WWE e vediamo di inventarci qualcosa con i takeover, non li vuoi mettere sul mercato, vabbè però abbiamo dei numeri, parliamone. Stando così le cose francamente vedo pochi spiragli di cambiamento. Ma ripeto, il telecomando lo avete in mano voi, quindi sta a voi decidere se questo tipo di show vi piace e se vi piace sta a voi sostenerlo. Intanto per oggi abbiamo terminato. Io vi ringrazio per l'ascolto, scusate se mi sono un po' dilungato e vi do l'appuntamento sempre qui alla prossima puntata di Chiedi al Bardo. Ciao!